ok salve buongiorno a tutti e benvenuti al consueto appuntamento del fine settimana dove andremo ad analizzare a mercati chiusi in pratica quello che è successo durante tutta la settimana sia dal punto di vista macroeconomico sia analizzando un po anche le 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 praticamente le coppie più importanti questa settimana abbiamo operato anche perché mi ha seguito anche nella chat telegram abbiamo operato anche sugli indici in particolare su dax quindi ci sono state ottime operazioni dopo praticamente andremo ad verificare andremo a vedere un po la tipologia di operazione che poi abbiamo fatto sul dax bene concentriamoci prima dal punto di vista macroeconomico in pratica come hanno chiuso le borse europee fondamentalmente c'è stata la chiusura di ottava al rialzo per i listini europei i dax iuda più 0,10 per cento libex a più 0,77 per cento il calco di parigi a più 0,32 per cento i fuzzi londra più 0,12 per cento ed chiude il fuzzi mi con è l'unica che piazza finanziaria che praticamente riesce non riesce a chiudere al di sopra la parità e precisamente chiude almeno 0,17 per cento le news macroeconomiche di venerdì 17 c'è praticamente però diciamo che è stata una settimana abbastanza intensa per i mercati finanziari caratterizzata da diversi interventi delle varie banche centrali mondiali prima c'è stata la fed poi la boggi poi la boe poi non dobbiamo dimenticare c'è stato anche la banca centrale svizzera e poi c'è stato anche il primo appuntamento elettorale di una lunga serie che attende il vecchio continente nel 2017 quest'anno il primo è stato quello olandese oltre c'è un è andato tutto come previsto la chairwoman fed già nel TL innalzato i lassi interessi di un quarto di punto percentuale come appunto era atteso dai mercati portanto dunque il costo del denaro all'interno della forchetta tra il 0,75 per cento e l'1 per cento sul fronte politico europeo il termometro olandese non ha fatto scattare segnali di allarme in quanto a prevalere è stato il leader liberale del partito di destra e il premier uscente Mark Ruth in questo quadro i mercati azionari appunto come abbiamo visto hanno chiuso hanno registrato un significativo miglioramento anche dal punto di vista tecnico con piazza affari in antesta sul fronte macroeconomico invece peggiora la bilancia commerciale dell'eurozona secondo i dati diffusi oggi dall'eurostat l'unico ufficio di statistica appunto dell'unione europea a gennaio si evidenzia in un deficit di 0,6 miliardi di euro del suo commercio internazionale di beni con il resto del mondo contro un surplus di 24,5 miliardi del mese precedente e di 4,8 miliardi nel gennaio del 2016 gli analisti si aspettavano un surplus commerciale di 22 miliardi di euro le esportazioni invece si sono sono salite del del 13 per cento e le importazioni addirittura del 17 per cento mentre la fiducia dei consumatori stavivitensi calcolata dall'università del michigan a marzo è salita a 97 punti dai 96,3 punti del mese precedente si tratta della lettura preliminare il dato in pratica in linea con le attese degli analisti mentre la produzione industriale è rimasta stabile a febbraio rispetto a gennaio quando era scesa dello 0,1 per cento dato rivisto dal meno 0,3 per cento gli analisti si aspettavano appunto un aumento mensile dello 0,2 per cento beh andiamo a vedere quello che succede la prossima settimana che vede dal 20 al 24 marzo lunedì 20 non c'è nessuna notizia quindi passiamo direttamente a martedì 21 con all'1.30 dall'Australia abbiamo il verbale dell'ultimo meeting della banca centrale australiana poi alle 10.30 abbiamo un doppio appuntamento proveniente dalla Gran Bretagna con l'indice dei prezzi al consumo e il bilancio statale tutti e due indicatori riguardanti il mese di febbraio e poi alle 13.30 abbiamo dal Canada abbiamo le vendite al dettaglio del mese di gennaio mercoledì 22 invece a mezzanotte e 50 abbiamo la minut della boggi e la bilancia commerciale del mese di febbraio alle 15.30 invece le scorte di petrolio degli Stati Uniti e alle 21.30 la decisione sui tassi interesse quindi un altro l'unica dato praticamente importante della settimana un altro meeting questa volta appunto della banca centrale toccherà alla Nuova Zelanda. Giovedì 23 invece abbiamo alle ore 8 l'indagine JFK sulla fiducia dei consumatori alle ore 10 le vendite al dettaglio del mese di febbraio alle ore 13 la conferenza stampa della Yellen alle 13.30 sembra dagli Stati Uniti la richiesta di sussidi di soccupazione del 18 marzo alle 16 la fiducia dei consumatori del mese di marzo e alle 22.45 la bilancia commerciale del mese di febbraio. Giovedì 24 invece abbiamo alle ore 9.30 l'indice PMI manufatturiero dei servizi della Germania poi abbiamo alle ore 10 questa c'è un errore qua ho fatto un errore però è l'indice PMI manufatturiero dei servizi della zona euro sempre nel mese di marzo alle 13.30 l'indice di prezzo al consumo di febbraio del Canada e poi chiude l'ultimo dato macro della della settimana alle 13.30 dagli Stati Uniti gli ordini di beni durivoli. Bene questi sono i miei contatti per chi vuole è ancora in tempo per poter iscriversi al servizio di segnali quindi un servizio dove praticamente per chi già mi già è praticamente all'interno della chat telegram dove verranno praticamente all'interno della chat telegram praticamente abbiamo un servizio di segnali che appunto saranno inviati contemporaneamente quindi avete una doppia scelta sia per mail e sia all'interno della chat telegram in pratica ogni utente ha questa doppia possibilità questo doppio tipologia di operatività diciamo perché in pratica possono utilizzare sia appunto la chat telegram che servizio di segnali via mail ripeto sono diretti nel senso che praticamente nel momento in cui verranno immessi anche un ordine pendente un ordine diretto al mercato e la mt4 diciamo grazie all'apporto di una società esterna di software che ha dato la possibilità appunto di poter far interagire la mt4 sia con la chat telegram che con le mail collegate questo è il link per poter iscriversi alla diretta live quindi vi potete iscrivervi direttamente da qui poi praticamente ricordo che i nostri servizi insieme alla diretta live servizio segnali sono gratuiti appunto fino a marzo fino a fine marzo quindi avete ancora un po di tempo per poter provarli per soprattutto per i nuovi dal primo febbraio saranno di esclusiva praticamente saranno utilizzati esclusivamente per i clienti delle trete che hanno aperto apriranno un conto reale con delle trete e poi insomma poi saranno sempre a vita ricordo che 21 22 e 23 marzo faremo uno stage via webinar tenuto direttamente da me per quanto riguarda dove andrò a spiegare la dashboard del per quanto riguarda i pattern armonici e quindi tutta una serie di indicazioni come filtrare in particolare i pattern armonici come quindi andarli ad individuare i migliori pattern come andare a individuare quindi diciamo tutta una serie di sono tre tre stage sempre via webinar e quindi praticamente sono quindi sono però ripeto sono solo per i clienti di teletrade bene detto questo passiamo a vedere un attimo passo all'altro allora prima di tutto vi voglio far vedere un po come che cosa è successo per quanto riguarda il dollar index vedete allora praticamente c'è stata una settimana dove che dire la forza del dollar americano ha subito quindi il dollar americano in questa settimana quindi 1 2 3 4 e 5 ha subito una forte flessione quindi dai massimi che sono stati raggiunti quindi martedì scorso a 101 e 66 si è passati a toccare un minimo sotto i 100 a 99 e 97 per poter poi chiudere la settimana a 100 a 100 per poter poi chiudere la settimana a 100 virgola 11 ovviamente questa praticamente questo movimento ribassista è dovuto soprattutto durante diciamo durante subito dopo appunto alle ore 19 e 30 quando c'è stata la notizia relativa all'aumento dei tassi interesse molti si sono chiesti perché bene perché praticamente come regola un aumento dei tassi interesse comporta sempre un aumento della valuta di riferimento però in questa situazione diciamo che in mercato già nei giorni passati aveva scontato la notizia quindi ecco perché c'è stato questo movimento rialzista poi che cosa è successo questa fase questa flessione verso il basso quindi questa fase di indebonimento da parte del dollaro americano è stata causata soprattutto dalle parole della jelen dove gli addetti ai lavori appunto cercavano una situazione diciamo cercavano quindi delle parole più un più che davano risalto in più quindi all'aumento visto che i danni microeconomici l'inflazione che sono riusciti cioè sono riusciti ad arrivare a quel 2% più volte in passato dato come un punto importante diciamo una vetta importante quindi molti attendevano parole della jelen un po' più da falco cioè più da aggressive invece poi che cosa è successo che praticamente ha tirato un po' il freno a mano quindi ha dato quindi una situazione anche appunto dal suo discorso dalla conferenza stampa quindi tutte le varie domande che sono state rivolte a lei praticamente c'è stato un ha dato un diciamo al mercato ha dato anche ha dato un un momento in cui praticamente un po' più ha messo un po' i remi in barca diciamo così e quindi ciò ha portato ecco perché ha portato a questa forte flessione quindi ne ha risentito anche il dollaro americano questa è la situazione quindi soprattutto mercoledì giovedì ma anche venerdì il dollaro americano ha avuto diciamo nei confronti delle principali valute quindi è stato sotto pressione un'altra cosa importante da poter ricordare è che molto probabilmente quindi dalle indicazioni che sono guardiamo appunto su questo grafico molto probabilmente potrebbe iniziare questo movimento ribassista questa fase di flessione potrebbe continuare anche per la prossima settimana bene andiamo a vedere invece come hanno chiuso guardando appunto l'indice che misura la forza settimanale delle singole valute vedete abbiamo in questo momento il dollaro australiano è quello che praticamente ha avuto la migliore performance attestandosi a 2,22 per cento mentre invece abbiamo tra appaiati al secondo posto abbiamo una stellina e un dollaro e la valuta giapponese che si mantengono a 1,87 86 per cento quindi anche se hanno avuto un forte sbalzo quindi una forte fase di apprezzamento della settimana come altrettanto anche il dollaro neozelandese il franco svizzero che hanno raggiunto l'1,36 e l'1,26 il primo il dollaro canadese 0,89 e l'euro 0,63 quindi questa è la situazione mentre invece dal punto di vista giornaliero la settimana di venerdì finisce sempre con lo yen praticamente che è stata venerdì è stato la valuta che praticamente ha spinto di più quindi ha avuto la migliore performance affrono invece dell'euro che praticamente insieme al dollaro canadese e insieme al franco svizzero che praticamente hanno avuto una flessione una leggera flessione in particolare l'euro che ha perso in meno 0,24 per cento bene per quanto riguarda invece prima di andare ad analizzare le coppie per quanto riguarda invece per chi mi sta seguendo nella diretta live quindi al servizio di segnali al momento sono 30 i numeri di segnali le operazioni sono 30 operazioni e abbiamo raggiunto ho raggiunto con i miei due conti cioè sia il conto che opero per il mercato delle valute che quello degli indici esattamente 1144 punti il momento forte è stato soprattutto per quanto riguarda l'operatività sul DAX eccolo qua l'operazione 25 e l'operazione 26 dove il 16 marzo ho fatto due operazioni sul DAX la prima a 55 punti e la seconda di 260 punti mentre invece venerdì un'altra operazione questa volta non sera ma buy direttamente al mercato con 258 punti di profitto quindi alla fine chiudiamo fino ai primi 20 giorni di operatività del mese di marzo a 1144 punti allora ecco allora quindi per quanto riguarda quindi l'operatività su DAX quindi abbiamo giovedì abbiamo praticamente c'è stato questa operazione adesso vi faccio vedere abbiamo la prima operazione 55 punti la seconda operazione invece sono entrato un po' più in basso e ho guadagnato quindi 260 punti mentre invece qui abbiamo tutte le operazioni che sono state chiuse giovedì e venerdì eccola qua questa è le due di giovedì e poi l'ultima di venerdì invece il buy che siamo sono entrato quindi che ha seguito la mia operazione siamo entrati qua e abbiamo chiuso esattamente a 12.081,9 ecco questo è per quanto riguarda mentre in questo momento sono praticamente siamo solo abbiamo solo un'operazione aperta per quanto riguarda il mio conto degli indici ho l'operazione su gold eccola qui dove abbiamo praticamente in questo momento siamo quasi sulla parità allora bene adesso passiamo invece alle operazioni per quanto riguarda le analisi per quanto riguarda appunto passo ad altro conto allora per quanto riguarda invece euro dollaro dopo andiamo a vedere le altre operazioni che abbiamo le ho lasciate in macchina quindi con anche quindi a cavallo tra le due settimane allora euro dollaro bene euro dollaro praticamente abbiamo un settimanale dove in pratica c'è questa situazione in cui mi sembra che al momento a causa della debolezza del dollaro americano vedete c'è una chiusura sopra la media 21 però ovviamente c'è questa spike che praticamente è molto diciamo abbiamo una chiusura molto lontana dal massimo quindi nell'ultima parte della settimana infatti ho proprio venerdì vedete c'è stato questo rientro da parte dei venditori però fondamentalmente questo questo rientro dei venditori che si vede anche in ottica h4 dove appunto vedete qui in pratica il il prezzo si è fermato proprio su questa zona quindi abbiamo una mia micro resistenze le chiamo micro resistenze eccola qui vedete come il prezzo si è fermato qua ha iniziato ad virare verso il basso vedete quindi già quasi vedete questo movimento di bassista però effettivamente molto probabilmente questo movimento è dovuto principalmente da tutti gli investitori che hanno sfruttato questa forza riazzista questi due giorni diciamo sia mercoledì che giovedì e poi hanno iniziato proprio a fine settimana al venerdì per non far rimanere appunto le operazioni a mercato hanno sfruttato quindi hanno sfruttato il questo hanno sfruttato appunto hanno iniziato appunto a chiudere le operazioni quindi venerdì quindi questa è giusto una chiusura di tutte le investitori che praticamente si sono andati a long sia mercoledì che giovedì bene l'intenzione è quella di iniziare di nuovo molto probabilmente potremmo avere un'altra spinta rialzista però in questo momento siamo su h4 lontani dalla media 21 quindi non è il caso vediamo un attimo come i primi movimenti di lunedì e poi si dovrà dovremmo deciderò appunto come che cosa dove piazzarmi abbiamo qui abbiamo quindi una situazione vedete anche qua c'è una una falsa rottura quindi al di un massimo quindi c'è un movimento che invece di rompere questo massimo praticamente si è portato verso il basso quindi probabile che ci potrebbe stare una continuazione del movimento ribassista e poi potrebbe ritornare verso l'alto quindi aspettiamo quello che ci dicono le prime sensazioni delle candele per il prossimo all'inizio della settimana dollaro yen bene dollaro yen abbiamo un forte movimento ribassista ciò è dovuto anche qua è inutile che lo vado a ripetere quindi dalla debolezza del del dollaro americano l'unico problema qui che praticamente vedete sul settimanale il prezzo si è appoggiato si sta avvicinando alla media 21 adesso dobbiamo vedere in questa zona che cosa succede in un ottico a giornaliera allora in un ottico a giornaliera in pratica vedete abbiamo questo test e spalla anche se è un po dove si trova in pratica è un po siamo sui massimi quindi dovrebbe dovrebbe stare all'incontrare un test e spalla rovesciato quindi non non è la zona adatta siamo abbiamo rotto 113 0 2 abbiamo un close sotto 100 il mio livello non convenzionale 113 0 2 un close sotto la media 21 quindi tutte indicazioni ribassiste aspettiamo aspettiamo praticamente sempre analizzando valutando sia settimanale che giornaliero che una rottura ovviamente analizzando il giornaliero sotto a 112 26 se riusciamo se il prezzo riesce a rompere sotto 112 26 quindi praticamente avremo tutto le indicazioni per poter entrare short passiamo alla sterlina sterlina dollaro bene per quanto riguarda invece la sterlina dollaro allora sterlina dollaro settimanale abbiamo un test e spalla adesso apriamo un attimo il grafico così lo vediamo bene eccolo qua test e spalla con la seconda parte vedete della della seconda spalla che ancora deve concludersi qua abbiamo la neckline quindi dobbiamo aspettare questo è un'operazione diciamo è una indicazione nata a livello settimanale quindi dove la neckline praticamente vedete passa anche la media 21 quindi al di sopra la media 21 con la rottura della neckline molto probabilmente se possiamo tentare un movimento o la possibilità appunto abbiamo una possibilità per un long anche perché se vado a restringere il grafico vedete questo è un minimo molto importante cioè quindi in una zona di minimo che praticamente il prezzo non è mai non l'ha mai raggiunto forse l'ha raggiunto ma è parecchio tempo quindi è molto interessante andare ad analizzare e a concentrare l'attenzione su questa zona ovviamente dobbiamo aspettare la rottura della neckline su settimanale e di portarci appunto al di sopra la media 21 sul giornaliero vedete siamo arrivati proprio quasi a 1.2420 la resistenza di 1.2420 quindi questo movimento realzista vedete è stato confermato la rottura della media 21 con quest'altra candela ciò ci potrebbe dare il là per poter comportare appunto questa continuazione di questo movimento realzista andiamo a vedere invece usd chf quindi ovviamente se usd chf se l'euro dollaro sale usd chf scende infatti vedete quindi abbiamo qua una situazione che sul settimanale qui abbiamo una bearish bat che già ha dato i suoi frutti quindi praticamente già è stata sfruttata il movimento ribassista c'è stato dall'area D praticamente è sceso quasi di 380 punti quindi è stato già andato già diciamo a in pieno target sul giornaliero siamo a 0 abbiamo rotto 0.9998 il prezzo si mantiene sotto 0.9998 seppure c'è stata questa correzione la correzione che ha caratterizzato un po' tutta la giornata di venerdì e ciò è di peso come detto prima dalle chiusure di chi è andato short bene invece per quanto riguarda auto sd allora auto sd abbiamo sul settimanale restiamo praticamente vedete c'è questa forte spinta realzista che ha riportato i prezzi sopra 0.7595 sul settimanale mentre sul giornaliero eccolo qua abbiamo una bearish cyber che è stata utilizzata la settimana all'inizio i primi dieci giorni marzo l'ho utilizzata per poter operare sella e abbiamo fatto l'operazione adesso siamo ritornati a 0.7702 per la precisione è una zona dove se andiamo a vedere è stata testata diverse volte cioè è stata testata esattamente qui quindi il 29 settembre 2016 e qua c'è una falsa rottura del 20 ottobre qua altrettanto vedete del 8 novembre qui c'è la zona d e adesso c'è un test vedete qui zona molto interessante siamo sul giornaliero perché abbiamo 3 shadow al di sopra 0.7702 vedete come il prezzo a risentino a meno di questo 0.7602 quindi l'idea che la prossima settimana potremmo attendere una prosecuzione per uno short fino in area 0.7595 quindi un target sui 60 punti con un possibile secondo target più importante sui 200 punti quindi è molto interessante a coadiuvare la situazione per quanto riguarda quindi la situazione abbiamo anche abbiamo anche praticamente il suo h4 in ambiente h4 abbiamo una bearish shark vedete questa bearish shark che la stessa cosa abbiamo si è formata all'area di sempre a 0.7702 appunto adesso sta il prezzo si è fermato il prezzo è una un'area molto importante anche in passato è stata testata diverse volte quindi facciamo attenzione a questa bearish shark che potrebbe darci degli ottimi risultati qui quindi sotto 0.7702 potremmo andare short prima un po prima quindi praticamente potremmo migliorare il nostro target vediamo la prossima settimana appunto cosa ci dice il mercato poi abbiamo abbiamo praticamente usd cad ma andiamo a vedere usd cad allora su usd cad è sempre valido allora settimanale ovviamente c'è una rottura sotto questa zona quindi è short anche se vedete c'è questo questa fase nell'ultima parte che è stata caratterizzata da questa vede è una una flag sembra è una flag un attimo che cambia un attimo il colore così si vede meglio una flag in direzione opposta al trend in questo momento short eccola qui vado a sistemare meglio eccola qua allunghiamo un po vedete è un canale un canale dove a rottura di questo canale effettivamente poi dove abbiamo anche 1 33 10 in pratica potremmo entrare nuovamente al mercato short a coeduare l'intenzione di una possibilità di un momento short c'è anche questa bearish cyber bearish cyber sempre in ottica giornaliera ben formata anche qua abbiamo preso profitto un pezzetto di profitto la scorsa settimana qui sotto 1 33 10 quindi se rompe sotto 1 33 10 quindi si riporta il prezzo si riporta di sotto un supporto statico un supporto dinamico dato dalla media 21 praticamente potremmo tentare un'altra operazione in vendita bene passiamo al new ziland dollaro quindi così concludiamo le sette major allora new ziland dollaro settimanale settimanale eccolo qua settimanale anche qua abbiamo la bearish bat che ha dato i suoi frutti praticamente qua è stata l'area di storno short è scesa sui 450 punti ora siamo a 0 69 15 0 69 15 sia la settimana questa sia la scorsa settimana vedete c'è un fechi c'è praticamente una falso movimento verso il basso i venditori non hanno avuto la forza di rompere di sportarsi la settimana scorsa verso sotto 0 69 e 15 quindi poi dopo in questa settimana sono intervenuti più copiosamente i compratori che hanno annullato con quasi completamente il movimento della ribassista della scorsa settimana quindi molto probabilmente la prossima settimana potremmo tentare qui un una possibilità di un movimento rialzista sempre se però siamo superiamo 0 70 e 49 bene sul infatti sul giornaliero anche qua al sopra 0 70 e 49 aiutandoci anche con h4 potremmo tentare la possibilità di andare long fino a 0 70 e 15 quindi sui 150 punti ora andiamo a vedere invece come si stanno comportando le uniche due operazioni che ho lasciato in macchina abbiamo audi n eccola qua in questo momento siamo quasi sulla parità e audi n faccio vedere perché sono entrato al mercato bene io sono entrato al mercato su indicazione di questa bearish shark eccola qua la vedete bearish shark rottura sotto la media 21 tutto confermato quindi praticamente stiamo su audi n fondamentalmente stiamo al di sotto il prezzo di ingresso quindi in movimento ribassista c'è in movimento ribassista è partito appunto su indicazione della bearish shark anche perché vedete dove si è chiuso sia x che d si trovano delle zone che sono state testate diverse volte in passato quindi togliamo un attimo fibonacci allora un attimo solo così non questo mi serviva per poter valutare l'ingresso eccolo qua quindi è quindi questa è la situazione passiamo al giornaliero il giornaliero vedete anche qua abbiamo una chiara intenzione ribassista è il settimanale a coattivare il movimento nostro settimanale c'è questa bearish cyber bearish cyber però in un ambiente settimanale ciò vuol dire che vedete io su h4 ho messo un target al di sopra 86 05 mio livello non convenzionale eccolo qua su settimanale invece sto aspettando per poter attivare la situazione sto aspettando una rottura sotto 86 05 un close sotto 86 05 per poter poi entrare a mercato sell però in un ambiente settimanale passiamo euro sterlina euro sterlina vediamo un attimo euro sterlina eccola qui bene anche qua la situazione diciamo chi sta andando come la l'operazione cioè sul settimanale abbiamo movimento sell sul giornaliero questa era un'operazione sul giornaliero vedete come abbiamo una chiusura sotto queste zone queste punte questi minimi quindi ciò sta a significare quindi una falsa partenza quindi longa 0 87 31 quindi anche su h4 vedete la situazione è una chiara situazione di un maggiore interessamento da parte dei venditori abbiamo lasciato questa zona poi su euro sterlina abbiamo un doppio massimo quindi qua quindi un movimento che in pratica va un po ad dare appunto vedete come abbiamo tutti i massimi minimi decrescenti primo massimo primo minimo secondo massimo decrescente e via di seguito quindi abbiamo una situazione al momento di vendita poi invece l'unica operazione che non è partita euro yen che l'ho messa sempre venerdì alla mattinata euro yen eccola qua andiamo a vedere perché perché non è partita euro yen avevo un buy stop bene il prezzo invece è sceso giù quindi alla fine non c'è stato questo è sempre in un'ottica intraday quindi sull'h4 vedete io pensavo un movimento al di sopra diciamo queste zone di acquisto mentre invece poi il prezzo è sceso questo è il basso bene al momento io mi fermo qui andiamo a vedere solo una situazione legata al do al al gold e poi a silver eccola qua allora su gold settimanale c'è una bullish cyber che ha fatto il suo movimento correzione adesso sta risalendo si è riportato sopra la media 21 anche sul giornaliero siamo sopra la media 21 quindi ripeto sono sul avete visto prima sugli indici sul sul conto che io utilizzo per gli indice per i metalli preziosi sono long a mercato silver molto velocemente andiamo a vedere anche sul silver che cosa sta succedendo bene silver invece settimanale attestato la media 21 quindi giornaliero eccolo qua quasi vede meglio siamo sotto la media 21 sotto 17 e 39 quindi da questa zona su indicazione anche su indicazione dell'h4 vedete sembra che questa la potremmo andarla ad analizzare come una flag eccola qui quindi a rottura sotto di questa flag potrebbe continuare il movimento ribassista ok signori io ho finito vi ringrazio per la vostra attenzione per ulteriori operazioni da poter inserire a mercato la prossima settimana mi le troverete quindi se ci stanno già qualcuna domenica sera direttamente all'interno della chat telegram oppure praticamente lunedì mattina ne commenteremo insieme nella diretta live insieme quindi con la diretta la con la speranza che anche gli indici ci daranno altre indicazioni per poter entrare a mercato io vi ringrazio per l'attenzione buon fine settimana a tutti